Ragazzi, io ve lo dico, mi faccio cacciare dalla nave. Ve lo dico anche da qua, anzi, ve lo devo dire su qui, se volete, con il video traballante. Lo facciamo e anzi, lasciami dei mi piace sotto questo video se vuoi vederli durante la crociera. In altri luoghi, in altri modi, però lasciami un mi piace se tu ad oggi un po' tutto quello che sta succedendo ti spaventa. Primo giorno di crociera che succede. Delirio, delirio. Delirio totale, delirio totale perché abbiamo deciso così di metterli in un mercatino delusato i nostri cercatori. Chiesa. E non solo perché chiesa dici, alla lunga l'avevo capito, no? Primo giorno di crociera e già mentre mi imbarco a Venezia cosa leggo? Chiesa, Nicolussi e Giallò fuori dalla lista dei convocati. Allora provo a pensare, infortuni, provo a pensare. Qualsiasi cosa, ma non quello che poi Tiago comunicherà a fine partita. Juve Brest che non ho visto perché sì, qui mi sono fatto un po' una tariffa con social, Whatsapp, Instagram, ma non posso accedere a YouTube. Non posso caricare i contenuti, lo posso fare solo quando attracco nelle varie località. La prima, Bari, quindi poi vedremo i prossimi giorni. Avrò qualche giornata di navigazione, quindi per un giorno non potrò caricarvi. Niente, oggi video non tanto per Juve Brest, che è una partita che sì, mi sono visto da voi, con qualche video, qualche spunto. Mi avete detto Cavallo, ha fatto delle sgrappate alla Calafiori, ha fatto la Sluiz ovviamente, con il calcio d'angolo battuto. Il primo assist, subito, che in 5 minuti fa meglio di Locatelli. E ho visto degli errori, frutto della volontà di cambiare e di migliorare. Però non parliamo di partita, parliamo di scelte. Parliamo di quelle anche che vanno un po' a sorprendere. La lista degli esuberi è più lunga di quella dei convocati. E questo è un problema quando sei nel mese di agosto. Cioè va bene che Giuntoli non aspettava altro, che io me ne andassi in vacanza, quel bastardato, per vendere mezza squadra. Quindi per non farmi monetizzare da casa e essere sul pezzo. Però ci sono delle sorprese. Nicolussi Gaviglia, per quanto mi riguarda, è una sorpresa. Ok, che è un giocatore che può andare a farsi un'esperienza in prestito. Perché l'anno scorso stare in prima squadra gli ha fatto male, non gli ha fatto giocare praticamente niente. E sappiamo che il centrocampo sarà Douglas Luiz, che Fren Turam è probabilmente il prossimo acquisto. Voglio pensare questo, perché se vendiamo tutti questi giocatori vuol dire che molti ne devono arrivare. Domande sulle tempistiche? Tantissime. A un'altra, Tiago Gialò. Prima di arrivare a Chiesa, che ne parliamo un attimo, anche se sapevamo che la direzione sarebbe stata quella. Forse qualcuno ci sperava vedendo il post Instagram. In uscita, anche lì si parla di prestito, però sarebbe clamoroso vederlo già a partire dopo sei mesi, dove non si è mai allenato. Quindi a quel punto sorgendranno delle domande del tipo, ma forse la Juventus ha già capito che il giocatore non può dare delle garanzie di prestazioni. Sarà utilizzata come pedina di scambio per arrivare a dei giocatori importanti. Lo diamo, che ne so, all'Atalanta per farlo utilizzare da vice con la Sinatra, così, per farlo arrivare per l'obiettivo con Miners. Mentre l'Atalanta magari insiste su qualche altro giocatore, alla O'Reilly, Nico González. Più che altro questa mossa non la capisco perché ti va a far svalutare dei giocatori sul mercato. Nel senso, Chiesa tu lo vuoi vendere, ma se lo metti in vetrina durante un'intervista post partita, quale prezzo ti aspetti? Io non so quale di questi giocatori tu avresti voluto tenere in rosa perché credi siano più forti di molti altri che rimarranno. Magari un Tiago Cialolo reputi anche potenzialmente più valido di un Gatti che in due anni magari non ti ha convinto appieno. Un Nicolussi rispetto a un Locatelli, un Chiesa dove alla fine, in questo momento, anche se magari l'idea ce l'avevamo già fatta, il tempo stringe. Galeno ha segnato ieri con la doppietta, un Supercoppa contro lo Sporting Lisbona, col Porto continua a segnare. È il nome, Caldo, il suo. Ci sono tutte queste domande, ragazzi. Ci sono queste domande che adesso faccio anche a voi nei commenti perché vorrei sapere un po' la vostra. Perché l'amichevole è stata quella che è stata. È stata una riprova, secondo me, per quello che ci sono degli errori e delle cose su cui lavorare. La difesa alta, la trappola del fuoricioco. Quello è un errore che, secondo me, se lo fai ci sta alla grande. È una tua idea, è una tua volontà di fare delle cose. Ho visto anche qualche video di qualche costruzione dal basso con errori da parte dei portieri, della linea dei difensori, di Fagioli, di Kefrenturam. Errori che ci sta a farli adesso. Sono tutti esperimenti, sono tutte cose che vanno provate. Ancora manca il gol da azione. Siamo tornati ancora agli antipodi con i gol da calcio d'angolo, con gente che la sa crossare. Quest'anno, secondo me, molto bene con il destro e vedremo anche con il sinistro se appunto ormai questa idea ce la stiamo facendo un pochino tutti. Tutto questo sacrificio, anche se potrebbe portare poco nelle casse, comunque libererà spazio. Dobbiamo fornire una lista UEFA entro fine mese con 24 nomi. Ad oggi tu, nella lista che ieri hai visto dei convocati, la metà sarà per la next gen. Quindi, un po' di domande, un po' di paura, ce l'hai perché appunto ti domandi innanzitutto se li piazzerei tutti. E quelli che non riuscirei a piazzare, che sono stati già dichiarati fuori dai piani della Juventus, cioè dobbiamo procedere con una cessione ogni due giorni per liberarci di tutto quello che c'è dal Kostic al Milica, i vuoti che abbiamo sul campo. Normale che ci sia preoccupazione, normale che ci siano dubbi perché ci sono tanti ruoli scoperti. C'è il ruolo scoperto del difensore centrale adesso perché comunque Todibo non va a riempire un ruolo. Danilo l'hai voluto utilizzare a destra, manca l'esterno a destra. Credo che ieri UEA sia stato utilizzato a partita in corso ancora come esterno alto quando l'ha messo in campo. Non mi sono visto i cambi, ho sentito parlare bene di Bangu là, ma non credo a questo punto che ora Tiago Motta renda tanti azici in mezzo al campo dei possibili titolari, convocabili per la lista importante UEFA. Quindi serve fare tanto e mi chiedo io adesso con quali mezzi, con quali metodi, con quali prestiti. Cancelo, mi viene da pensare. Terzino destro che tu hai citato qualche mese fa. Adesso anche lui può diventare un nome che puoi rimettere sul... I giornalisti sicuramente andranno fuori di testa con quello che è stato detto ieri dopo la partita. Comunque io, amichevole, ancora non vado a dargli il giusto peso perché comunque non vuol dire nulla vincere. L'abbiamo visto con Allegri, con Real Madrid, Barcellona che poi è stato quel che è stato, è servito a quel che è servito per poi dimostrare dopo poco che poi bastava il primo Sassuolo che ti attaccava a campo aperto per andare gambe all'aria per poi rivalutare tutto quello che volevi creare, come volevi giocare per ripartire da quello che aveva in mente Allegri. Tiago Motta su questo sono convinto che voglia creare una squadra dove si sta dando adesso tutte le colpe della scelta, della cessione di chiesa ma secondo me c'è un lavoro congiunto lì, cioè l'allenatore a una certa deve anche assicondare quello che poi è il volere di un direttore sportivo. Il direttore sportivo ti fa capire, guarda io non lo voglio perdere a zero chiesa, lo voglio vendere piuttosto anche a poco adesso ma ci serve monetizzare. La situazione è quella che non ce la possiamo permettere di fare come un tempo la Juventus si poteva anche permettere di far di perda a zero dei giocatori dove per Allegri era la normalità, arrivare a fine contratto, arrivare a scadenza e perderli ma non è nella politica di un direttore sportivo come Giuntoli cercare di arrivare a queste situazioni senza cercare di porre un rimedio prima. Si vuole affrettare i tempi, si vuole subito rivoluzionare la rosa senza far sì che magari come a volte succede il nuovo allenatore vada a ricopiare la rosa dello scorso dove spesso il primo anno in cui uno subentra non va a rivoluzionare così tanto e invece questa sessione di mercato sembra che vogliamo fare tutte le cose in grandi e faremo più operazioni di mercato di quelle che abbiamo fatto negli ultimi tre anni perché questo ci dice la logica dei numeri dei colpi che faremo. Io ragazzi non so quante altre cose potrei dirvi, ovviamente qui fare un video non mi costa molto perché comunque sono quei minuti dove poi un po' accumulo dalle notifiche che leggo ieri secondo me questa è stata la notizia più clamorosa da parte l'amichevole dove i gol subiti si sono sotto gli occhi di tutti, ci sono degli errori per l'uscita del centrocampista centrale che scarica sull'esterno, devi migliorare la qualità in quelle giocate, in quei tocchi perciò io sono fiducioso su questo però sono un po' ad oggi in alto mare, cioè la vedete no? in alto mare, in alto mare totale non si vede la costa e in questo momento sembra che ci sia quasi qui il mare qui niente, in questo momento la cosa di avvento sia un po' così, diciamo che il mare forse è il 30% e poi il resto è tutto totale oblio, il Valhalla siamo nel nulla, quindi ragazzi non lo so qui dalla costa deliziosa è tutto, seguiranno aggiornamenti quando sbarcheremo in Grecia perché poi non si fanno da sole Santorini, Mykonos e Atene, insomma non mi costa nulla non mi arrabbierò fin troppo, però facciamoli lavorare, ma è normale avere dubbi, preoccupazioni soprattutto anche un po' una riflessione del tipo aver fatto questa mossa ti porterà a perdere o a guadagnare milioni dalle cessioni? perché sì tu li guadagnerai a forza di cederli però è una mossa dove poi gli altri club sanno benissimo che tu non hai potere contrattuale in questo momento, è un po' come se tutto quello fatto prima giuntoli lo volesse cancellare un po' posso porre il rimedio, era così, le cose rovinate restano rovinate, le voglio togliere tutte ma se io per chiudere il video chiedessi a due milanisti dove va secondo voi Chiesa? secondo voi Chiesa? dove va? è andata la Roma, un premio? la squadra Barmouth, pure lui, vai, te dove va? la Roma anche lui sei così io per Roma quando la vedo che faccio? ma non seguo io il carciopercato vabbè ma il Milan non ce lo vedresti no ma che per 20 milioni ma c'è il trucco ci si fa, ci abbiamo 5 quesi, Pulisic, Saleemakers, Leal ma Saleemakers viene da noi sì sì, ti piace S sì al massimo va a Napoli al massimo eh certo chi è? e dove c'è Bormo? e chi lo piglia? vai da Roma, per Abraham di merda eh, quello, quello ci sta Premier, ti dico West Ham perché riserva un italiano sempre nella squadra misterio, ci si sta andando così? no ah, penso Zaniolo il rischio che a Juve rimanga alla fine per gli alla zero l'Inter il prossimo anno c'è ancora no che lo piglia a fa l'Inter secondo me? resta la Juve e quindi va all'Inter l'anno dopo a zero per Doomfreeze Luca Mastranger vivrà sempre lo saprà Mastranger Mastranger